Si apre un grande cerchio e una grande opportunità, quindi Genova farà il gran finale ovviamente. Genova sarà presente in tutte le tappe con il pavillon, ma Genova sarà presente anche sull'acqua con una barca, con la nostra bandiera, il nome di Genova e soprattutto con marinai italiani ed è una cosa molto bella per questo. L'equipaggio è misto, i nostri amici austriaci hanno lavorato molto bene, ha lavorato bene il cantiere San Giorgio che si sta specializzando veramente in imbarcazioni di altissimo livello e competitive. Avete visto cosa è successo con la barca che è stata anche sponsorizzata, quella barca stupenda che è arrivata sino in America, sino ai Caraibi ed è arrivata seconda. Quindi è stato un grandissimo risultato sportivo e noi ora ci aspettiamo che ci sia anche un bel risultato sportivo, perché l'equipaggio è competitivo, la barca è competitiva e faremo un bel lavoro. Quella cosa più importante in assoluto, come sapete, gli obiettivi per l'Ocean Race di Genova sono tre. Il primo ovviamente è il risultato sportivo, il secondo è la visibilità per la nostra città e il terzo non dimentichiamolo mai, vogliamo mandare un messaggio di ecosostenibilità e di rispetto per gli oceani. Infatti faremo il decalogo degli oceani che sarà presentato durante il gran finale, che andrà poi all'ONU in settembre. Bellissima notizia che arriva il 30 di dicembre, quindi quale modo migliore per salutare il 2022, sperando che il 2023 sia meglio per tante ragioni. Ovviamente per noi lo sarà senz'altro perché Ocean Race prende il via a gennaio, adesso metà gennaio da Alicante, arriverà appunto a Genova l'ultima settimana di giugno sostanzialmente. E quindi aspettiamo con ansia la partenza, ma soprattutto il tour intorno al mondo che vedrà a Genova con il proprio padiglione e la Liguria raccontate, spiegate, illustrate in giro per il mondo. Quindi con tanta voglia di venire e di tornare per chi c'è già stato. Con questa operazione, con Team Genova, si incrementa naturalmente quella che è l'operazione di promozione della città. Ma assolutamente, guardate, questo è, credo, l'ho vissuto tra l'altro proprio con il mio amico Francesco Ettore, il presidente della Federazione Italiana della Vela, che tra l'altro fa parte dello Stilin Committee, e quello si diceva, cosa manca a questo evento, cosa manca, mentre in questi mesi e anni stavamo andando avanti a progettare tutto quello che poi avete già visto in parte e vedrete, ci manca una barca italiana. E qui ce l'abbiamo fatta, tra l'altro questa, come dire, commistione italo-austriaca è molto divertente, è abbastanza inusuale. Io sono abituata con gli sport invernali a interagire con gli austriaci, che sono dei gran sciatori. Trovarli nella vela mi diverte molto di più. Io desidero quasi scusamente darvi un'emozione, perché abbiamo vissuto 15 giorni, perché l'ultimo pezzo del puzzle si è chiuso due sabati fa, abbiamo lavorato tutto il team in una maniera incredibile per raggiungere questo, sotto una tensione incredibile, sotto problematiche che ci si verizzavano giorno per giorno. Stanotte ho dormito bene, stamattina le difficoltà si sono ribaltate immediatamente in emozioni, sensazioni e un incredibile piacere di vedere questa barca in acqua. Ci abbiamo creduto, il mio motto è sempre stato quello di Never Give Up, senza tutti i ragazzi che ci circondano, senza il cantiere, senza gli austriaci, non avremmo mai messo insieme questa avventura che è incredibile, che è un'avventura di alto livello, perché gli austriaci sono un fantastico equipaggio, i nostri ragazzi sono fantastici, la barca è al top delle sue prestazioni, non mi piace dire adottato, ma ci siamo trovati in parte nei piccoli austriaci che vorrebbero rimanere a Genova per il futuro, quindi evidentemente Genova è qualcosa di particolare che entra nel cuore a tutti quanti. Oggi è un giorno importante, direi un anno importante per la vela oceanica italiana e sono estremamente orgoglioso del risultato di Ambrogio, di Alla Grande, che è stata la nostra prima barca costruita come cantiere San Giorgio Marine e adesso avere questa opportunità di avere Team Genova a Genova nel mio cantiere, averla finalmente in acqua mi fa venire un po' la pelle d'oca, quindi è un sogno che stiamo riuscendo a portare avanti. Avete fatto un lavoro straordinario, non un semplice refit, ma sono stati lavori importanti che ti chiediamo di raccontarci per permettere a questa barca oggi di partire per Alicante davvero in condizioni strepitose. Lo skipper Jansen ha detto veramente molto fast, veramente veloce. Sì, l'imbarcazione era l'ex Vestas che abbiamo visto durante l'ultima edizione della Volvo Ocean Race e quei ragazzi austriaci sono arrivati qua con la loro barca a settembre, abbiamo tirato a settembre. Il challenge più grosso è stato proprio il tempo perché in appena tre mesi abbiamo dovuto praticamente rigenerarla completamente. Per rigenerare vuol dire che l'abbiamo presa, l'abbiamo ricarteggiata, riportata a carbonio, rilaminata in molte zone perché dopo due giri al mondo, poverina, aveva giustamente anche bisogno di essere un po' ripristinata, rinforzata dove doveva essere rinforzata e poi riverniciata e rimontata tutta. È una grandissima barca e l'abbiamo rimessa in condizioni pari al nuovo, quindi adesso è veramente pronta per farsi un altro giro del mondo. Sono estremamente onorato di essere stato scelto come rappresentante dell'Italia in questa avventura che per me rappresenta un po' un sogno perché l'Ocean Race fin da bambino per me è stata una delle avventure più incredibili nel mondo della vela. Non vedo l'ora di salire a bordo di questo team di austriaci che mi sembrano molto affiatati e competenti. Sì, emozioni che è difficile descrivere, è successo tutto totalmente in fretta, soprattutto per noi che non ho ancora ben realizzato cosa vuol dire essere qui. Comunque veramente è un sogno che si avvera perché si passano anni a seguire queste regate, a seguire le storie, a sentire i racconti di questi velisti che veramente affrontano, non lo so, non penso che ci sia un'altra regata così e essere qui oggi ancora non capisco bene cosa sta succedendo, però sono contentissima, non vedo l'ora di partire, non vedo l'ora di fare questo trasferimento, conoscere la barca, l'equipaggio, siamo pronti dai!